Ieri, presso la sede del Coggevo di Chioggia, è stato avviato un corso per ottenere la qualifica di capobarca. Il corso è stato organizzato dalla Fai Cislo in collaborazione con la Eastfield Prisma. La Fai Cislo ormai da anni organizza corsi per ottenere titoli professionali nel territorio collodiense. Già da un mese è partito in collaborazione con Union Cop Formazione Impresa il corso per motorista e con la stessa Union Cop altri corsi sono in programma per dare una professionalità agli interessati. Sono coinvolti una cinquantina di pescatori e l'intento è quello di far crescere professionalmente i lavoratori del settore. La formazione professionale può essere un punto di partenza per affrontare le difficoltà e inoltre l'arricchimento delle competenze è un valore aggiunto non solo per il dipendente ma anche per l'impresa. La formazione professionale può essere un valore aggiunto non solo per il dipendente ma anche per l'impresa.